Questo è quello che chiediamo, più voce alla gente, alla popolazione ed è per questo motivo che siamo qui perché vogliamo che la potestà ritorni ai cittadini come la potestà monetaria e questo è il nostro atteggiamento di fronte alla politica monetaria vogliamo che la politica monetaria ritorni in Italia a noi, ai cittadini che lo meritano possiamo passare ad una moneta che rappresenti realmente le esigenze dell'economia del nostro paese perché l'euro non lo rappresenta, l'euro rappresenta l'economia della Germania e quindi sta ammazzando il nostro paese, ci sta ammazzando noi invece vogliamo vivere e vogliamo proporre e vogliamo andare avanti